Antonella Clerici è una celebre conduttrice televisiva e personaggio pubblico italiano, nata il 6 dicembre 1963 a Legnano, in provincia di Milano. La sua vita è stata caratterizzata da successi professionali, momenti felici e, come per molte persone, da sfide e difficoltà personali. In questa biografia, esploreremo vari aspetti della sua vita, inclusi dettagli tristi, il suo matrimonio, la famiglia, la carriera di successo e la sua casa. Antonella Clerici ha trascorso la sua infanzia a Legnano, crescendo in una famiglia comune. Fin da giovane, ha dimostrato una passione per il mondo dello spettacolo e ha manifestato il desiderio di intraprendere una carriera nel campo della televisione. Dopo aver completato gli studi superiori, Antonella ha deciso di perseguire la sua passione, iscrivendosi a corsi di recitazione e comunicazione. La sua determinazione e il suo talento presto l'hanno portata a ottenere piccole opportunità nel mondo dello spettacolo. La carriera televisiva di Antonella Clerici ha inizio nei primi anni Ottanta, quando ottiene la sua prima opportunità come valletta in programmi televisivi. Tuttavia, la svolta nella sua carriera arriva quando diventa la conduttrice del popolare programma per bambini non è la RAI nel 1991. Questa esperienza la mette sotto i riflettori nazionali e le apre le porte a ulteriori opportunità. Il suo talento naturale, il suo carisma e la sua capacità di connettersi con il pubblico le consentono di diventare una delle conduttrici più amate in Italia. Antonella ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui La Prova del Cuoco, un cooking show in onda dal 2000 e che ha riscosso un enorme successo per oltre un decennio. La vita personale di Antonella Clerici è stata oggetto di grande interesse da parte del pubblico. Nel 2005, Antonella sposa il giornalista sportivo italiano Paolo Calissano. La coppia sembra essere molto felice, ma purtroppo, nel 2008, il matrimonio finisce con una separazione. La separazione è stata un momento difficile per Antonella, e questa fase della sua vita è stata segnata da dolori emotivi. Tuttavia, il suo spirito resiliente le ha permesso di superare le difficoltà personali e di concentrarsi sulla sua carriera e sui suoi figli. Antonella e Paolo hanno avuto una figlia, Mael, nata nel 2008. La conduttrice ha sempre attribuito grande importanza alla sua famiglia e alla sua vita privata, cercando di mantenere un equilibrio tra la carriera e il ruolo di madre. Uno degli eventi più dolorosi nella vita di Antonella Clerici è stato l'incidente in cui è stata coinvolta sua figlia Edelweiss. Nel 2012, la famiglia ha vissuto la tragica perdita di Edelweiss, di soli pochi mesi, in un incidente domestico. La perdita di un figlio è una delle esperienze più difficili che una persona possa affrontare, e Antonella e Paolo hanno dovuto fare i conti con il lutto e il dolore. La coppia ha cercato conforto l'uno nell'altro e ha continuato a essere genitori amorevoli per la loro figlia Mael. Nonostante le sfide personali, Antonella Clerici ha continuato a godere di un enorme successo nella sua carriera. La sua presenza sul piccolo schermo, il suo stile unico e la sua autenticità l'hanno resa una figura iconica della televisione italiana. Negli anni successivi, Antonella ha continuato a produrre contenuti di alta qualità, partecipando a programmi televisivi di successo e dimostrando la sua versatilità come conduttrice. La sua capacità di affrontare le avversità con forza e di trasmettere empatia e gioia al pubblico l'hanno resa un punto di riferimento nel mondo dell'intrattenimento. Nel novembre 2023, la Clerici ha ricevuto una devastante diagnosi di cancro al seno. Come molte persone che ricevono questa notizia, ha dovuto affrontare una miriade di emozioni, tra cui paura, incertezza e dubbio. Ma Antonella Clerici non è una persona che soccombe facilmente alle avversità. Era determinata ad affrontare la sua diagnosi a testa alta, determinata a trovare un percorso di guarigione che fosse coerente con le sue convinzioni e i suoi principi. Una delle decisioni più difficili che spesso le persone con diagnosi di cancro devono affrontare è se sottoporsi o meno alla chemioterapia. La Clerici non fa eccezione a questo dilemma. Dopo un'attenta considerazione e consultazione con il suo team sanitario, ha coraggiosamente deciso di rifiutare la chemioterapia. La sua scelta si basava sulla convinzione che la chemioterapia, sebbene sia un trattamento contro il cancro efficace e ampiamente accettato, spesso comporta effetti collaterali debilitanti che possono compromettere seriamente la salute del paziente e la qualità della vita di una persona. La Clerici era determinata a trovare un altro modo, che non solo curasse il suo cancro ma le permettesse anche di continuare a vivere una vita piena. Clerici intraprende un viaggio completo per rafforzare il sistema immunitario e supportare le naturali capacità del corpo di combattere il cancro. Ha utilizzato una combinazione di metodi di guarigione alternativi, dimostrando notevole dedizione e resilienza durante la sua lotta. Terapia nutrizionale, yoga e meditazione, pensiero positivo e terapia della risata. La sua energia e il suo spirito sono fonte di ispirazione per i suoi amici, la sua famiglia e i suoi fan. Ha continuato a lavorare su progetti cinematografici, sfruttando al massimo il suo tempo e non lasciando mai che il cancro definisse la sua esistenza. Durante le ultime settimane della sua vita, la Clerici fu circondata da persone care che la sostennero e la confortarono. Continua a impiegare le pratiche olistiche che l'hanno sostenuta durante tutto il suo viaggio, trovando conforto nella meditazione e nella presenza di familiari e amici. Il 15 dicembre il mondo ha salutato la Clerici, una donna straordinaria il cui viaggio ha toccato il cuore di milioni di persone. La sua scomparsa è un toccante promemoria della fragilità della vita e dell'importanza della resilienza di fronte alle avversità. Antonella Clerici rappresenta una figura di grande ispirazione per molte persone, non solo per il suo successo professionale, ma anche per la sua resilienza e la sua forza nel superare momenti difficili nella vita personale. La sua carriera continua a prosperare, e la sua presenza positiva e autentica continua a lasciare un'impronta indelebile nel cuore del pubblico italiano. La torre preferito, freghi, non ceppa di niente. Anzi, possiamo ammazzarlo veramente un'altra volta. E alla numero 7, va bene a questa velocità, fidatevi, non moreròi. Cioè, non so se vi è mai capitato di giocare a qualcosa dei giochi dello zio Goichi, che sta chiaramente molto male, tipo Lollipop, James, o insomma, nei suoi giochi di solito succedono A cose a caso, B ci sono grandi gnocche. Voglio dire, non penso che si possa dire molto più di un gioco simile, che in generale è anche lui minchionissimo. Perfino nella parte finale, quando dopo aver ritrovato la nostra ex, ce l'abbiamo fatta, il dialogo viene schippato tutto quanto alla svelta per passare all'azione, perché mica abbiamo tempo da perdere per ascoltare una trama o qualcosa che, se rallentato, suona più o meno così. Come prego? Ok, alla numero 6, va bene da questo verso, fidatevi, in celeste, o celeste. E continuiamo sulla via degli audio rallentati e della musica da suonare al contrario per sentire messaggi del diavolo, insomma, è una cosa che esiste dall'alba dei tempi, perché se si manda indietro la traccia IN THE MIRROR, quell'IN THE MIRROR diventa I SATAN, PAPE SATANA, LEPPE, VIVA DIAVOLO e così via, così via, più o meno. Questo non è proprio così, però diventa questo. La bella Lena Rain, la compositrice di questa host che ascolto da mattina sera, devo dire, ora la guardo con occhi un pochino diversi, ora non l'ascolto più da mattina sera questa host, ma soltanto a mezzanotte, quando sacrifico capretti e verginelle sul pentacolo che ho in cameretta, che ha la numero 5, il gioco più spaventoso di sempre, ossia Luigi's Mansion. Oh sì sì, sarà tutto carino, tutto colorato, ma quando poi arrivano gli spettri e Luigi si lancia in quel suo urlo, vedevi che la volta dopo, al posto di soffiarci nella cartuccia per farlo ripartire, ci buttavi l'acido solforico. Comunque, che diceva, ma sì, easter egg, sì, dell'ombra di Luigi, che ha una certa, ci penzola davanti come se fosse impiccato se illuminiamo una delle pareti. Alla Nintendo si sono scusati subito, oh no, è un glitch, sì, è un glitch, soltanto glitch, dissero, invece no, invece no, è una di quelle creepypasta tipo la Vandonia, perché vi sembra un caso che io e i miei amici nel 2001, quando l'abbiamo visto da piccoli, poi dopo sette giorni.